Il recapito fresco di giornata viaggia con Poste Go Fresh, il nuovo servizio di trasporto refrigerato per la consegna dei prodotti a domicilio alimentari freschi acquistati online. Il nuovo servizio è realizzato da MLK Fresh, società nata dalla joint venture tra MLK Delivery, società controllate da poste italiane e la Mazzocco SRL. Poste Go Fresh, già attivo in oltre 20 città tra cui Roma, Milano e Torino, è il primo servizio che garantisce il trasporto di prodotti alimentari a temperatura controllata lungo tutta la filiera e permette al destinatario di prenotare l'appuntamento di consegna, scegliendo la fascia oraria, di monitorare sulla mappa l'arrivo del prodotto oppure di optare per il ritiro in un punto di consegna, sempre ovviamente refrigerato. Il lancio di Poste Go Fresh conferma la strategia di Poste italiane che punta ad un'offerta unica e distintiva ottenuta da una combinazione innovativa di asset e di tecnologie.